Buonasera, ben ritrovati cari telespettatori. Questo è sempre a tu per tu con il programma che ogni sera entra nelle vostre case portandovi un ospite diverso e vuole aiutarvi nelle piccole e grandi incombenze quotidiane. Questa sera torna per l'ultima volta per questa stagione televisiva un volto insomma fra i più affezionati ai nostri telespettatori, il nostro amministratore di condominio preferito Matteo Ferrari. Benvenuto! Ciao Maria Rosa, buonasera a tutti, grazie. Ben tornato, caro Matteo come stai? Benone! Bene, bene, sei contento di essere arrivato all'ultima puntata? No dai, è un piacere. È un piacere, lo so, lo so, è un piacere anche per i nostri telespettatori che adesso potranno farti tutte le loro domande allo 0381 09 14 51 nel caso volessero telefonare, intervenire in diretta, altrimenti 366 11 88 002 nel caso di un whatsapp. E allora Matteo volevo partire con te da un argomento che ci sta particolarmente a cuore, che ti accennavo prima dell'inizio della diretta, ossia noi abbiamo ricevuto e tuttora riceviamo tante telefonate dei nostri telespettatori che hanno problema con l'antenna di casa, con l'antenna condominiale per la ricezione dei canali della nostra televisione, non solo di Milano Pavia TV. Ma insomma un po' di tutte le televisioni, da quando c'è stato tutto l'afferro, risentonizzazione, eccetera, eccetera. Come capita anche a te prima di tutto? Sì, è capitato, come dicevamo l'altra volta, e ulteriormente, ne sono capitati diversi di casi. Ti chiamano, dicono, non vedo più la televisione. Ti chiamano, esatto, perché poi o qualcuno appunto che è anche affezionato delle televisioni locali soprattutto, ma effettivamente anche le principali in certe occasioni hanno un attimino di carenza di ricezione e quindi immediatamente quando arriva la prima telefonata capisci che è una delle cose più importanti, perché il televisore in un condominio è quasi più importante del riscaldamento. Cioè non reggono se non vedono la televisione. In questo caso è un bene per voi, eccetera, però non tollerano. Cioè ci vuole, ripeto, sarebbero più tolleranti se gli mancasse la caldaia piuttosto che il segnale TV. Ed effettivamente di segnalazioni se ne sono state. Le antenne non necessariamente vanno sostituite. È un intervento non per forza invasivo, salvo che si tratti di impianti particolarmente vecchi. Vanno aggiornati i filtri, vanno aggiornati, vanno regolati nuovamente i centralini e quindi chiaramente bisogna chiamare perché non sono interventi particolarmente invasivi e si evita di avere dei problemi di ricezione. Quindi basta anche solo un condomino che segnali e parte l'antennista. Assolutamente, perché comunque è una riparazione, un adeguamento di qualche cosa che già esiste. Non è una spesa soggetta a una delibera o a particolari, diciamo così, permessi. Di conseguenza è un po' come la riparazione o come dire cambio, devo cambiare adesso banalmente la lampadina. Non è necessario chiedere permesso. Bisogna cambiarla, basta, insomma. Ne basta uno che lo chieda perché qualcuno potrebbe dire ma tendenzialmente i principali canali li vediamo, potrebbe essere la principale obiezione se proprio vogliamo. Ma se anche un'obiezione ci fosse di questo tipo non è plausibile perché si ha diritto di vedere qualsiasi canale che è trasmesso nella zona. Quindi che tra l'altro è proprio, lo dicevamo l'altra volta, è un diritto sancito ufficialmente, nel senso non è che ce lo inventiamo. Non riguarda il regolamento di condominio. Però appunto tranquilli perché nella maggior parte dei casi è veramente un piccolo intervento. E se l'intervento è piccolo anche la spesa che poi è quella che interessa. Certo, certo. Sì, quello è fondamentale perché le polemiche poi su determinate spese magari nasce da quello sostanzialmente. Salvo che poi esca la famosa questione di principio che è quella che a volte rovina un po' tante situazioni in maniera inutile. Rovina i rapporti. Quindi state tranquilli perché veramente è una spesa che poi va divisa per tutti e va a incidere davvero poco. Bene, detto questo, di altre spese ti voglio parlare questa sera perché abbiamo due domande sullo stesso argomento ma che seguono secondo me due strade diverse. Però adesso sentiamo te che sei la massima autorità. Stiamo parlando di spese condominali. Sotto questo capitolo si accumulano, si stanno tanti tipi di spese diverse. Però chiamiamole così, spese condominali. Non pagate. Ok. Nel caso di spese condominali non pagate da un inquilino che abita nel palazzo, deve intervenire il padrone di casa? Se sì, dopo quanto e dopo quante volte che magari le si richiede? E che cosa, insomma, com'è il meccanismo che si innesca? Allora, diciamo che intanto, per fare chiarezza, il proprietario è sempre responsabile del proprio inquilino. Quindi il soggetto di riferimento per il condominio, tolto che il rapporto con l'inquilino c'è senza nessun problema, può esserci o può non esserci. Parliamo dal punto di vista contabile. Poi è ovvio che c'è il rapporto inquilino-amministratore per le cose pratiche, perché di norma l'inquilino ha diritto di chiamare come il proprietario per qualsiasi problema ci fosse. Per quanto riguarda le spese, è una scelta come corrisponderle, dipende dai contratti che vengono fatti. A volte ci sono contratti che contemplano all'interno del pagamento dell'affitto anche le spese condominali e di conseguenza l'amministrazione viene in qualche modo bypassata, perché col versamento dell'affitto l'inquilino paga anche le spese. Di conseguenza è il proprietario che poi versa tutto al condominio. Diciamo che è una situazione a livello proprio di certezza condominiale ottimale. Di norma si presuppone che il proprietario sia il soggetto più solvibile, non è sempre così chiaramente, però tendenzialmente lo è. La proprietà è sempre responsabile, quindi nel momento in cui anche l'inquilino versasse direttamente al condominio e diventasse moroso per qualche motivazione, è chiaro che può essere sollecitato dall'amministratore, si può fare anche, chiaramente può ricevere raccomandate di sollecito, telefonate, eccetera. Poi però l'azione vera e propria nel caso in cui fosse necessaria viene fatta alla proprietà. La proprietà pertanto, nella maggior parte dei casi, va a corrispondere il dovuto dell'inquilino, ma proprio per evitare un'azione legale che verrebbe fatta nei suoi confronti, perché il proprietario è assolutamente il responsabile e il soggetto a cui fare riferimento per queste situazioni. Non c'è una tempistica precisa, nel senso che il discorso è relativo, c'è solo la tempistica che ci impone, impone a noi amministratori di agire nei confronti dei morosi entro i sei mesi dall'approvazione del bilancio. Questo è una cosa diciamo recente degli ultimi anni, è un obbligo che hanno imposto, questo a garanzia di tutto il resto del condominio, perché amministrazioni magari un pochettino latitanti hanno in certi casi lasciato crescere troppo i debiti dei proprietari inquilini che fossero, creando dei grossi disagi. Quindi imponendo un termine per agire si dà una sorta di sveglia. Detto questo non è che c'è una tempistica per cui deve intervenire il proprietario al posto dell'inquilino o meno, è anche se vogliamo una discrezione dell'amministratore, che ad un certo punto, con le buone, nel rapporto con l'inquilino, almeno per quanto capita a me, benissimo, un sollecito, due solleciti, non versi, allora a questo punto chiudo l'argomento, chiudo il canale di comunicazione, anche perché non ha senso andare a insistere quando il mio soggetto di riferimento è il proprietario e chiedo l'intervento del proprietario. E di conseguenza spesso accade che sopperiscono i proprietari, proprio per evitare, poi saranno loro ed eventualmente chiaramente ad agire nei confronti dell'inquilino. Ok, detto questo capita a volte, ed è quello che lamenta un nostro telespettatore, che suo malgrado è stato avvisato dall'amministrazione quando queste spese avevano raggiunto un importo già di migliaia di euro. Diciamo che, voglio dire, a volte si fa anche presto a raggiungere i mille euro, basta non pagare 3-4 rate ed ecco che i mille euro si raggiungono facilmente. In questo caso parliamo di più di mille euro, di qualche migliaia di euro. E è rimasto un po' al libito sbigottito perché dice comunque volevo essere avvisato prima, perché insomma adesso prima di tutto avrei potuto anche al limite procedere con uno sfratto, con un'azione diversa se non riuscivo a recuperare i miei soldi. Adesso mi trovo più di un problema da risolvere. Anche magari se avessi agito per tempo, la cifra era minore, riuscivo a recuperarla anche in minor tempo. Che cosa possiamo rispondere a questo telespettatore? C'è qualche mancanza e quindi si può dire anche che l'amministrazione in questo caso è colpevole? Allora diciamo che ha un fondamento di ragione, nel senso che è giusto nell'ambito della situazione dire se io fossi stato avvisato subito, però teniamo presente una cosa, che l'arco di tempo, salvo che ci siano dei problemi diversi nell'amministrazione, l'arco di tempo per il quale uno possa non essere informato non supera l'anno. Perché nel momento in cui si riceve a casa il bilancio, al di là del fatto che venga avvisato dall'amministratore o meno, una modalità per informare tutti è proprio la rendicontazione. Quindi alla fine dell'anno, una volta l'anno la riunione condominiale si fa standard, che poi anche col Covid non si sia fatta, ma si mandavano comunque a casa i bilanci. Quindi significa che una volta l'anno si è venuti al corrente della propria situazione e della situazione del proprio inquilino. Quindi cosa significa? Che per quanto potrebbe magari aver peccato l'amministratore, perché dice doveva essere pronto a dirmi subito, parliamo comunque di pochi mesi. Perché? Perché non si può dire io non sapevo per anni se si va indietro per tanto tempo, perché significa allora che per primi non si è fatto il proprio dovere, cioè non si è guardato il bilancio che è stato mandato a casa. Perché a volte capita anche questo, ci sono delle proprietà, dei proprietari che pensano che vada tutto sempre serenamente e aspettano i solleciti, ma il proprio inquilino va controllato. Detto ciò è anche vero quello che dicevi tu, che a volte le cifre, indipendentemente dal periodo temporale, che è quello più importante per, se vogliamo magari identificare un minimo di responsabilità anche dell'amministratore, è il fatto che gli importi dipende dal tipo di condominio, ma possono essere elevati anche in pochi mesi, cioè ci sono appartamenti, vuoi perché hanno delle categorie di spese all'interno delle quote condominiali che sono importanti, perché già riscaldamenti centralizzati, magari raffrescamenti centralizzati, posti giustamente con giardini importanti, ad andar bene spendono 3-4 mila Euro l'anno di spese, in certi contesti addirittura di più. Significa che si è fatto presto a fare 2-3 mila Euro in pochi mesi, ma non è che cambiasse la vita se si fosse agito un mese precedente, perché è un accumulo molto rapido. Chiaro che, ripeto, se ci fosse una situazione che si protrae per diversi anni, io trovo che sia più colpevole il proprietario, parlando di inquilino e proprietario, è più colpevole il proprietario dell'amministratore. L'amministratore deve sollecitare perché a un certo punto ha bisogno di soldi, quindi prima o poi qualche cosa deve chiedere. Ma il proprietario deve essere, almeno alla fine dell'anno, quando arrivano i rendiconti, deve leggere cosa riceve e da lì si vede se l'inquilino ha pagato o no. Quindi, ripeto, è naturale, però non bisogna neanche pensare che le amministrazioni siano lì a guardare tutte le singole posizioni tutti i giorni, perché noi periodicamente facciamo delle verifiche, ma guardiamo anche magari ad hoc le situazioni che possiamo immaginare che siano problematiche, perché non è realistico pensare che tutti i giorni vengano spulciati tutti gli estratti conto di tutti i condomini, parlando di ogni studio. Quindi non si può pensare che l'amministratore diventi il proprio segretario, questo è importante, ma non per levarci delle castagne dal fuoco, proprio perché c'è gente che a volte è capitato, qualche situazione, dove anche cose leggere, è capitato anche a me, una sorta di contestazione piccola di questo tipo, che due o tre mesi prima aveva smesso questo inquilino di versare, quasi mi è stato eccepito con un tono come dire, ma lei me lo doveva dire il mese scorso, ma scusi ma io non sono il suo segretario, ma stiamo impazzendo. Quindi bisogna trovare l'equilibrio giusto, però certamente prima si viene a sapere, prima chiaramente bisogna avvisare, ma nell'interesse di tutti, ecco. Comunque il messaggio che deve passare è sicuramente che siamo noi a dover curare i nostri interessi. Assolutamente, soprattutto gli inquilini che vengono, diciamo così, che vanno a allocare la propria unità, sono assolutamente da gestire. Non si può pensare che nel momento in cui si è mandato la comunicazione all'amministratore classica della serie, allora, il subentro dal giorno X dei signori Pinco Pallino. Da lì basta, è finita, me ne lavo le mani, tanto ormai loro verseranno le spese. Un buon padrone di casa si interessa anche, ma si interessa lui a volte stimolando, a volte è lui che chiama per dire, quanti capita che mi chiamino dicendomi, mi fa un controllo perché ho avuto un sentore, non so, è in ritardo con il pagamento di certe situazioni, non è che è in ritardo anche con voi. Tante volte è una cosa magari di un mese, dico sa che ha ragione questa rata non me l'ha versata e il campanello viene subito. Però ripeto, è sempre una posizione che è bene controllare perché noi abbiamo una pluralità grande di situazioni, possiamo fare i solerti quanto vogliamo ma non possiamo essere, arrivare dappertutto. È importante che il proprietario lo faccia per evitare problemi. Insomma, se c'è una buona sinergia si riescono a così, insomma, a tener d'occhio alcune situazioni. Caso numero due, perché in questo caso invece abbiamo una ragazza che sta comprando un appartamento in un condominio molto bello, molto carino, però ha scoperto che il proprietario attuale è indietro di un bel po' di soldini con il pagamento delle spese condominiali. Lei dice qualora compro questo appartamento? Non è che poi me le vengono a chiedere a me? No, allora adesso la fortuna è che da diversi anni a questa parte per poter rogitare un appartamento o comunque una proprietà necessaria all'interno di un condominio in questo contesto è necessaria la liberatoria dell'amministrazione che certifichi che è in regola con i pagamenti il proprietario che sta vendendo. Quindi si è garantiti da questo punto di vista perché il notaio non rogita, quindi c'è poco da fare, non c'è molta alternativa. Nel momento in cui capitasse che la proprietà che sta vendendo non abbia la possibilità proprio materialmente di versare, anche lì direi che il problema nel momento in cui si sta vendendo è marginale perché ci sono delle formule in sede di rogito per comunque risolvere il problema. Si fa la postilla dove viene versato una parte del corrispettivo della vendita direttamente all'amministrazione o viene fatto un assegno direttamente al nuovo proprietario che poi salderà l'amministratore o si scorpora dalla cifra della vendita e nel caso in cui mettiamo proprio non abbia liquidità la proprietà per versare. Detto questo quindi oggi diciamo che le sorprese sono difficili perché una volta invece capitava nel senso che comunque il proprietario nuovo è sempre responsabile per due anni di gestione ma ripeto con questa garanzia è un rischio che non si corre. Una volta non era necessaria questa liberatoria da parte nostra di conseguenza si rogitava indipendentemente e quindi stava all'acquirente cercare di andare a fondo della situazione però non tutti sono del mestiere non tutti si immaginano certe cose e quindi tantissimi si sono trovati le sorprese e noi a un certo punto andiamo a chiedergli a chi li deve pagare non è che abbiamo da una parte o dall'altra li dobbiamo portare a casa. Ecco però direi che oggi si può stare sotto quell'aspetto abbastanza tranquilli. Ecco meno male quindi tranquilli perché quando andate a rogito tutti i nodi vengono al pettine. Assolutamente. Non si muove foglia che l'amministratore non voglia. Buonasera quando le spese condominiali non vengono pagate ma l'inquilino è anche il proprietario come fai il condominio a recuperare quanto non pagato? Questo ce lo chiede Giovanni. Ah beh cambia poco rispetto inquilino proprietario perché comunque quando c'è la separazione fra inquilino il proprietario alla fine il riferimento è comunque il proprietario soprattutto per azioni importanti. Le modalità per recuperare i diciamo questi crediti sono dalle più buonarie naturalmente e sono quelle i solleciti normali che arrivano che siano inizialmente verbali poi con una semplice mail. Ma tu cosa fai? Per prima cosa telefoni? Ma magari allora la telefonata oppure la mail magari che oggi è molto frequente piuttosto che la comunicazione ma proprio semplice senza magari raccomandata proprio per cercare di non dare inizialmente un questo è un po ognuno un suo metodo personale non è una una regola è per evitare poi dipende anche dal contesto noi abbiamo un po il peso delle situazioni siamo abituati ad avere a che fare con tanta gente e in qualche modo capiamo con chi abbiamo a che fare poi sbagliamo che noi però la sensazione di essere presi in giro o di avere di fronte una persona che ha reale difficoltà o magari che semplicemente ha avuto una dimenticanza riusciamo abbastanza a gestirla quindi spesso sono dimenticanze le dimenticanze è giusto anche sollecitarle in maniera buonaria cioè non andando subito con questi toni perentori che fanno già innervosire tutta la situazione è chiaro che cambia il discorso nel momento in cui non c'è risposta a ciò e allora partiamo con delle comunicazioni un attimino più serie con chiaramente una una validità legale una raccomandata una pec e non dovesse portare a casa non si dovesse portare a casa il risultato in questo modo e non resta nient'altro che le vie legali e quindi si può iniziare con una che di solito risolve molto una classica lettera dell'avvocato come diciamo una volta che fa un po sorridere perché la lettera è la stessa che mandiamo noi però quando leggono gli avvocati magari leggono lo studio che sono sette otto avvocati nello studio già pagano solo che questo gli è costato magari 300 euro perché giustamente ogni professionista al suo compenso e quindi anche perché poi le spese di recupero sono a suo carico assolutamente che sia poi fatto con un piano di rientro che sia fatto con un versamento in un'unica soluzione o che sia fatto poi con un'azione legale più importante perché se non ci fosse risposta nemmeno la comunicazione dell'avvocato diciamo la lettera semplice allora giustamente si innesca un meccanismo differente e di conseguenza c'è un recupero forzoso un atto giudiziario c'è un decreto ingiuntivo e questo ha dei costi ben differenti dalle 200 euro di una lettera del legale si si rischia di chiaramente di avere un raddoppio magari anche delle spese perché perché chiaramente l'azione è doverosa viene fatta e naturalmente deve essere coperta dalla in qualche modo dal moroso può capitare di solito non non bisogna neanche anticipare perché l'avvocato direttamente inserisce nel piano di rientro anche la sua quota poi magari invece ci sono casi in cui si viene ad anticipare le spese a livello condominiale ma è una spesa personale della diciamo del inquilino moroso proprietario che sia e di conseguenza in qualche modo è una spesa in più però ecco e si va per step come in tutte le cose può capitare che ci siano le situazioni dove effettivamente se ci si riesca a divincolare nell'arco di poco ma quelle situazioni che si incancreniscono per reale difficoltà e noi purtroppo anche quando siamo siamo tolleranti finché possiamo perché se si ha la sensazione che c'è davvero difficoltà è giusto essere tolleranti però a un certo punto quando si arriva ad un certo momento è necessario purtroppo da parte nostra un'azione non è cattiveria sono obblighi che ci impongono d'altronde è così che dobbiamo insomma d'altronde le spese le dovete pagare anche voi perché dietro dicevamo dietro queste spese condominiali molto spesso ci sono bollette del è quello che a volte non comprendono adesso è un periodo dove si sente tanto come dove c'è anche il dialogo si sente come motivazione e o tante altre spese o le bollette o le cose la risposta è sempre la stessa non è che qui le bollette non ci sono solo che le bollette non sono intestate il singolo di conseguenza uno pensa che ci sia sempre qualche santo che provvederà in realtà non è così perché se noi non abbiamo soldi in cassa non li possiamo fabbricare quindi è vero che una situazione su magari 30 40 non ci crea il disagio da diciamo di mancanza tale di liquidità ma questo non lo può sapere il moroso perché purtroppo oggi non è che uno solo su 40 fosse questa la percentuale saremmo a cavallo in realtà non è così non è così allora andiamo in pubblicità perché è il momento poi torniamo in diretta e continuiamo a parlare con il nostro matteo ferrari l'amministratore di condominio buonasera eccoci e buonasera ben ritrovati scusate che avevo già salutati prima siamo di nuovo in diretta siamo ancora con il nostro amministratore matteo ferrari ecco ero un po sovrappensiero perché stavamo commentando insomma proprio l'argomento di questa sera dice il nostro amministratore a volte ti senti un po' all'esattore delle tasse il periodo sicuramente non è dei più facili non è dei migliori con tutti questi aumenti assolutamente si è diventa sempre più difficile nel senso che i solleciti sono all'ordine del giorno e sono aumentati chiaramente perché perché poi sono aumentate realmente le difficoltà ripeto poi discorso che facevamo prima chi fa il furbo rimane e c'è sempre chi al di là di questo ha magari la dimenticanza ed accordo purtroppo aumentano le situazioni di reale difficoltà e di dove manca veramente la possibilità di diciamo così di onorare i propri i propri debiti e quindi lì è più difficile perché è naturale che dove non c'è sostanza è anche difficile perché non è detto che poi appunto non è che l'avvocato e la panacea di tutti i mari cioè risolviamo tutto se poi non c'è nulla da cui attingere è il problema resta certo e insomma bisogna da una parte e dall'altra cercare di far quadrare le cose perché i momenti non sono facili le bollette arrivano belle sostenute sia quelle che arrivano direttamente a noi sia quelle che arrivano come diceva il nostro amministratore è intestate al condominio ma ugualmente qualcuno le deve pagare a proposito di ciò come siete stati con i nuovi con le spese di quest'anno avevate previsto di stare un po più alti onde non avere sorprese alla fine dell'anno diciamo che mano a mano che si va a deliberare dei nuovi preventivi e questo da un po di mesi a questa parte quindi da quando comunque era chiara la situazione era opportuno tenere e prevedere un aumento per quanto non si possa per carità e essere precisissimi perché erano anche in determinati momenti non propriamente prevedibili però già solo il fatto di sapere che ci sarebbe stato un aumento per quanto mi riguarda la cosa era sufficiente per integrare in qualche modo senza magari esagerare per carità quelle che erano le voci ordinarie certo perché non per evitare di trovarsi ecco in difficoltà e doverli poi domandare comunque in un'unica soluzione ed è una cosa antipatica cosa antipatica e anche meno chiaramente per chi deve versare meno pratica perché la dilazione è sempre importante certo allora è un'altra cosa che ci è stata segnalata dai nostri telespettatori riguarda sempre un po al caro bollette è il fatto che quest'anno non c'è stata nessuna deroga da parte dei nostri amministratori questo un po diffuso da in tutte le città del della buffatina del riscaldamento fiammata la fiammata ecco anche se abbiamo avuto un aprile con delle ecco caldo pazzesco ma succede sempre comunque statisticamente sempre così arriva il freddo sempre al 15 non si può non spegnere perché fa talmente caldo che guai a non spegnere e poi la settimana dopo gli ultimi anni è sempre stato così ma quest'anno nessuno ha fatto la buffatina tu come ti sei allora no in realtà io qualcuno l'ho avuto che me l'ha richiesta e l'abbiamo mantenuto ancora acceso per qualche ora però devo dire che sono molto ridotte nel senso che in contesti normali era un attimo telefonare chiedere per giustamente l'umidità in casa perché poi è il classico periodo dove fa più freddo in casa che fuori non lo capisco perfettamente lo capiamo anche noi magari chi è meno in casa lo capisce meno perché stando fuori tutto il giorno ma immaginiamoci la persona che sta in casa spesso solo star fermo dopo mezz'ora che sei fermo in casa il freddo lo senti detto ciò prima c'era più richiesta adesso vuoi che per assurdo è capitata alle telefonate che si accertassero del fatto che spegnessimo subito il 15 ecco guardate un po la tendenza è naturale penso perché insomma tanti sono spaventati tanti sono spaventati per questo discorso tanti chiedono chiedono magari previsioni che poi noi possiamo dare fino a un certo punto perché non abbiamo la sfera di cristallo per capire poi perché poi è chiaramente una è una concomitanza di fattori la bolletta che arriva ma anche il consumo del singolo di conseguenza non si può sapere c'è la gente che spende magari meno dell'anno precedente perché è stata più parsimoniosa nei propri consumi e anche se c'è stato l'aumento generale è riuscito magari ad andare in pareggio o addirittura risparmiare quindi non è non è detto che sia un bagno di sangue è comunque difficile pensare che questo inverno sia quello appena trascorso diciamo sia più economico del precedente questo no di sicuro allora caro amministratore il sentore dei nostri telespettatori è un po' confermato da quello che stai dicendo effettivamente devo dire che anch'io quest'anno al 15 basta finito a casa è stato spento riscaldamento ma nei giorni successivi faceva veramente freddo allora io sono andata ad aprire a toccare però niente non arrivava caldo e quindi non me la son sentita di chiamare proprio detto qua solitamente tutti gli anni si dava la buffa china se quest'anno non l'ha fatto non sarò io a chiederla vabbè non sarò quella che dice ho freddo ho freddo effettivamente meno male che in casa quasi tutti ormai abbiamo gli split esatto bisogna adesso consideriamo molto questo qualcuno per carità non ce l'avrà ancora sopperirà con qualche chiamiamola classica stufetta elettrica perché c'è gente che regolarmente magari non ha neanche sufficiente calore so di gente che ne ha talmente tanta necessità è abituata ad avere delle temperature tropicali per cui oltre al riscaldamento che non può essere più alto di tot perché sappiamo che ci sono delle regole integrano con stufettine varie elettriche quest'anno secondo me si contengono anche su quelle perché comunque l'energia elettrica ha avuto degli aumenti veramente importanti quindi insomma non è propriamente l'ideale ma ti assicuro che se ci sono anziani in casa oppure ci sono bambini soprattutto la sera è il momento in cui si fa la doccia uno vuole un po' di calore o togliere quantomeno quella sensazione di umidità per fortuna sembra che adesso le temperature si stiano di notte sì ormai adesso per quanto il tempo possa è la giornata piovosa magari uno la sente un attimino di più però diciamo che siamo in fondo al tunnel adesso essendo già maggio ormai non ci si può più neanche azzardare a chiederlo ma neanche nei momenti in cui stava via però caro Ferrari Draghi ha detto mi raccomando il condizionatore esatto tenetelo un po' più alto non mettete i 24 gradi mettetene 26 adesso abbiamo il problema successivo che però riguarda un po' meno noi amministratori perché di impianti centralizzati di aria condizionata ce ne sono veramente pochi statisticamente non è come il riscaldamento quindi possiamo averne uno o due io stesso ne ho uno forse nel senso non è che tanto dove sto io quindi non è che devo gestirmelo in ogni caso però quella è più una questione privata però effettivamente adesso si comincia sul serio perché le bollette dell'Enel quando comunque dell'energia elettrica saranno pesanti quest'estate quindi Draghi lo dice per una questione etica e noi lo diciamo per una questione economica direi che anche se non siamo toccati dall'etica il portafoglio verrà toccato abbondantemente quindi è buona regola cercare di mantenersi un attimino secondo me più parsimoniosi stiamo in casa magari ecco così in costume da bagno in versione tropical d'estate però soffreremo un po' più il caldo e va bene cerchiamo di combattere tutti insieme questo caro vita cambiamo completamente argomento perché c'è un'altra segnalazione da parte dei nostri utenti riguarda la differenziata ah altro argomento caldo ecco e ti spiego bene la problematica qual è cosa succede che nelle abitazioni private se non c'è un giusto conferimento corretto abbiamo una telefonata molto bene buonasera con chi parlo buonasera sonia ernesto volevo fare una domanda al nostro amministratore buonasera posso certo prego grazie le spongo l'antefatto diciamo in un condominio c'è in pratica un ballatoio che dà accesso a un appartamento diciamo che questo è l'ultimo è la parte finale del ballatoio della ringhiera no è stato venduto questo appartamento e il nuovo proprietario utilizza questa parte comune mettendo sedie tavoli utilizzando come se fosse proprietà sua no allora il un condomino ha chiesto all'amministratore come mai si comportasse in questo modo perché non è roba sua è roba del condominiale quindi anche il regolamento del condominio prevede che sia libero non venga utilizzato cioè si è tenuto libero l'amministratore in pratica ha detto che avendo visto la piantina dell'appartamento è catastale e quindi ha stabilito che effettivamente il ballatoio è di proprietà ho ribadito ma guardi che il catasto è l'istituto meno affidabile per capire chi è il proprietario perché secondo me bisogna andare alla conservatoria dei registi immobiliari vediamo la storia del condominio i vari passaggi di proprietà e se il condominio ha venduto a un condomino con un'assemblea al 100% naturalmente ha venduto questo questo ballatoio ci sarà un atto pubblico redatto da un dottario da cui si evince che effettivamente questo questo ballatoio di proprietà e l'unica soluzione è questa mandiamo un tecnico alla conservatoria quello ci dà la fotocopia di cose e cosa ne pensa di questo mio pensiero penso che abbia ragione giusto perché in effetti il catasto non è probatorio come come sappiamo e quindi giustamente può essere per carità che sia come dicono però è bene non fermarsi a quello visto che come dice lei ha una memoria storica sapendo che la situazione non era così significa che probabilmente ammettendo che davvero sia di proprietà privata debba esserci per forza una vendita che come diceva lei giustamente è deve essere stata approvata da tutti i proprietari perché non si tratta di un affitto di una locazione ma è una vendita di sedine quindi andare a fondo in questo modo è importante sì io direi di sì perché comunque rilevate definitivamente il dubbio e sapere saprete quantomeno se perdere del tempo o meno nella discussione ecco assolutamente per non creare un precedente altrimenti ognuno bilanta quel che vuole poi esatto esatto perché comunque sì perché spesso c'è questa tendenza già ad occupare alle spazi comuni che non è corretto occupare se in più vengono addirittura chiusi purtroppo ogni tanto capita ed è bene vigilare grazie ernesto molto gentile buona serata grazie buonasera grazie buonasera in questo caso la verifica può essere richiesta c'è anche un singolo condominion può andare sì sì esatto cioè adesso è giusto rivolgersi all'amministratore perché c'è un soggetto che è preposto a questo e siamo noi però lo può fare chiunque come si fa una visura catastale che è la prima cosa che si fa in effetti quindi non è che è stato un errore dell'amministratore avrei fatto anch'io la prima cosa si guarda nell'atto la visura catastale detto ciò però nel momento in cui effettivamente c'è sollevato un dubbio da parte come dicevo di qualcuno che probabilmente anche magari la memoria storica perché noi possiamo essere arrivati l'anno scorso ma magari la proprietà di anni ricorda qualcosa se ricorda che era una cosa comune e che poi magari è chiaro che diventa se c'è il dubbio bene andare in fondo e quindi diciamo non costa niente fra virgolette ma costa comunque poco rispetto a quello che dà come certezza visto che la situazione abbastanza importante ecco in questo caso nel caso il condominio avesse venduto la pertinenza al proprietario dell'epoca è un caso che può verificarsi basta che ci sia il cento per cento ovviamente perché viene ceduta pro quota una parte che è di tutti è una cosa che capita ti è già capitato perché magari una pertinenza poi alla fine interessa più un appartamento che altri è capitato a me è capitato di affrontare l'argomento poi non si è trovata la quadra era più che una vendita uno scambio di una porzione è un appartamento particolarmente importante che praticamente prendeva tutto un piano un attico e quindi l'idea della proprietà era quella di inglobare l'ultimo pianerottolo che poteva avere una logica nel senso che nessuno degli altri condomini aveva un particolare interesse ad andare su quel pianerottolo non avendo altri che l'accesso alle unità che erano state poi unite dello stesso proprietario e si parlava di uno scambio con un'altra un'altra unità immobiliare diciamo del piano terra lì poi non si sono trovati in accordo perché poi le teste quando sono tante come sappiamo per fare ciò è necessario assolutamente l'unanimità perché ognuno è proprietario per quanto in relazione alla propria quota millesimale e ma è proprietario è come se fosse una comproprietà di due coniugi non cambia nulla senza la firma di tutte e due non si può vendere di conseguenza basta che uno si metta di traverso semplicemente per antipatia o perché non vuole dargliela perché c'è anche l'invidia sotto questi aspetti magari qualcuno vi dice no vale piuttosto che dargli il pianerottolo a questo dell'attico che è già l'attico e mi stasse antipatico in più ha un sacco di soldi vuole addirittura il pianerottolo così gli arriva l'ascensore in casa e allora no guarda piuttosto no e ci sono e quindi ma fatevelo amico e fatevi invitare nell'attico che sicuramente c'è anche la jacuzzi non siamo così cerchiamo sarebbe meglio esatto prenderla prenderla con filosofia come si dice tanto non è che cambia nulla ecco però ecco è capitato so a me personalmente è capitato solo un caso di questi perché di solito è difficile non ci sono delle situazioni anche così interessanti da rendere appetibili delle porzioni diciamo nel caso di questo ballatoio che finisce è proprio il fondo corso è il finale di quei ballatoi se glielo vendessero lui magari lo rende anche più grazioso ecco lì poi non abbiamo approfondito però bisogna capire se la cosa dà fastidio perché magari il fatto che qui venga utilizzato con tavoli vuol dire bangiarci vuol dire viverci quindi vuol dire magari anche dare fastidio fare il rumore e allora c'è questo motivo in altri casi se non è una situazione di questo tipo è un diciamo appunto un fondo corsa come come ha descritto non serve ad altri anche lì che a lui che entra nella sua casa quindi volendo se fosse si potrebbe anche tollerare va bene allora però corretto quello che ha detto il nostro Ernesto torniamo al conferimento dell'umido e di tutto ci stavamo parlando di tutto quel che ne concerne che cosa succede ora nella maggior parte anzi direi quasi in tutti i comuni del territorio non è più possibile conferire insomma quello che si butta nei sacchi neri assolutamente assolutamente vietato questo nelle abitazioni private è molto ben identificabile e sanzionabile perché insomma sei davanti a casa tua o te l'hanno portato lì però è difficile da dimostrare o tu l'hai messo mentre capita che mettendo nei bidoni contenitori condominiali ecco che poi vengono lasciati lì i sacchi neri e ci sono dei condomini non tuoi ma dico che si sono rivolti a noi che dicono insomma ci sono sacchi neri che stazionano sotto casa ormai da tre quattro settimane chi se ne deve occupare adesso è un po l'amministratore è lì più o meno perché se rimangono lì effettivamente ad un certo punto qualcuno deve portarvi ecco il mio immagino ferrari il problema ecco no non direttamente quello ancora non siamo arrivati a raccogliere i sacchi ma effettivamente è un problema primo sacco nero che non è ancora molto chiara questa cosa nel senso che probabilmente c'è gente che o li deve sbagliare infatti lì a e non li vuole buttare via e li utilizza ma il problema è che non c'è assolutamente deroga cioè il rifiuto si deve vedere basta la regola è questa lasciamo anche stare i colori perché tanto i colori all'inizio e poi ogni comune tra l'altro c'è i suoi perché anche lì è un'altra delle cose assurde dell'italia che non ci voleva molto a dire i colori teniamoli per tutta italia uno va in vacanza c'è il giallo che è che ne so l'indifferenziato invece della plastica si confonde eccetera però a di là dei colori che non li guardano più è il fatto che il sacco sia trasparente perché bisogna vedere cosa c'è dentro usando il sacco nero è matematico che non lo portano via è già tanto che non diano sanzioni perché in certi casi danno arrivando stanno arrivando nei condomini c'è il secondo problema che è quello ancora peggiore rispetto a quello delle singole abitazioni è che non si capirà mai il responsabile quindi la multa arriva al condominio ea me è capitato arrivano arriva al condominio x c'è la targhetta e li paga tutto il condominio quindi lì si innesca poi un meccanismo dove se dovesse capitare più di una volta a questo punto la gente è portata a diciamo a evidenziare a vedere chi è che fa queste cose perché è naturale che non si può vivere sulle spalle del condominio perché si decide di fare quello che si vuole i sacchi quando rimangono esposti purtroppo teoricamente bisognerebbe poi privatamente trovare la modalità di smaltirli però noi nei condomini in tantissimi casi abbiamo degli addetti che si occupano dell'esposizione dei sacchi quindi non avvene l'esposizione diciamo personale del singolo può capitare spesso può capitare anche però tendenzialmente non si può pretendere che l'ha detto vada a mettere le mani nei rifiuti per dividere e dire ok c'è dentro plastica c'è dentro umido e renderli diciamo così renderli fruibili ecco in qualche modo raccoglibili non so se si può usare questo termine perché comunque la modalità per poterli raccogliere che ci sia la tipologia corretta di solito devo dire la verità ad un certo punto poi li portano via li portano via e tendono però a portarli via molto più avanti perché devono far capire che chiaramente non può essere non può passare il messaggio per cui se anche c'è il sacco nero lo porto via il giorno dopo e la gente allora dice ma dove sta la sanzione allora riporto un altro sacco nero quando il sacco comincia a rimanere lì per una settimana vedi che cominciano allora a capire che c'è qualcosa che non è ma poi crea anche disagio problemi se non addirittura però dovrebbe svantirlo il privato quindi in questo caso il condominio che dovremmo mandare o l'addetto delle appunto della raccolta altrimenti qualche privato volenteroso dello stabile che prenda il sacco e lo porti dove lo deve portare ecco va bene insomma abbiamo chiuso con i sacchi neri la nostra stagione televisiva banditi io sapete cosa ho fatto con gli ultimi che mi sono avanzati ci ho ritirato le cose in cantina per den polvere utilizzo che adesso se devo far su qualcosa uso i sacchi neri grazie a matteo ferrari per l'ottima compagnia e davvero la consulenza speciale che ci ha fatto anche nel corso di questa stagione ti ritroveremo molto presto grazie a voi con voi l'appuntamento naturalmente è per domani vi aspetto tutti anche di più grazie a tutti grazie a tutti